ragazzi ragazzi buona giornata buona domenica da corridore nato mickey crow buona domenica 20 febbraio a tutti mi raccomando passate bene andiamo subito a vedere lo shop forn di oggi ragazzi vi ricordo intanto che presto sarò anche sulla piattaforma viola come mickey crow 2 ricordo anche che per supportare il canale inserite il codice creatore mickey crow tutto attaccato maiuscolo o minuscolo e supporterete gratuitamente il canale questo è inserire ogni 14 giorni e anche per supportarlo ci sono le super sticker e le super chat ragazzi ve lo ricordo però shoppate sempre con molta moderazione e cominciamo ragazzi cominciamo fra i potenti con gli eroi della dc è esattamente harley queen ragazzi 1200 vbac fantastica fantastica bellissima fa parte del set tutto rosso season 6 capitolo 2 a parte il sudorso decorativo vendetta di harley queen 400 vbac ragazzi il timer tiene contro la rovescia della tempesta ed ecco il bundle di harley queen ragazzi eccolo qua incarichi leggendari la skin di harley queen e i due piccoli battuta finale è il bellissimo battosta di harley 3.100 vbac altrimenti gli oggetti venuti separatamente ma il costo ovviamente si alza e passiamo a un'altra eroia della dc il bundle flash ragazzi il costo per questi cinque oggetti è 2.200 vbac invece che 3.500 vbac altrimenti 3.100 scusate ecco la skin flash il dorso decorativo a forza della velocità guardatelo il piccone laceratore di forza della velocità le moto è bloccate al volo ragazzi eccolo qua e la schermata di caricamento incluso il mio nome è Barry Allen ragazzi ecco i due stili che si sbloccano con l'incarico e la reattività e la potenza sottratta ovviamente tutti questi oggetti vengono usi separatamente anche questi ma il costo ovviamente si alza e passiamo a un altro bundle della dc beast boy ragazzi il bundle beast boy 2.600 vbac con la skin beast boy il dorso decorativo titano del divano il piccone mazza beast e le moto ragazzi scatena la scimmia ragazzi 2.600 vbac anche qua venuti separatamente ma costo si alza e passiamo alla bellissima wonder woman ragazzi skin di wonder woman del campionessa di temishira season 7 il dorso decorativo mantello di diana il piccone ascia da battaglia di atena il delta plano bellissimo ali d'acqua le adorate la schermata di caricamento a trinità della dc e le mot bracciali di e festo ragazzi 3.600 vbac ragazzi se li prendete separatamente il costo ovviamente si alza e passiamo al bundle batman zero corazzato 3.200 vbac continua la skin il dorso decorativo eso deltaplano il piccone ascia batarang il deltaplano eso deltaplano di batman io alcuni oggetti li ho messi nei contest se vi ricordate ieri l'ascia batarang il deltaplano di harley queen il il scusate il dorso decorativo di harley queen e il deltaplano di un altro eroe della dc ovviamente tutto questo viene venduto a 3.200 vbac se no se gli sciopate separatamente il costo ovviamente varia varia verso l'alto ragazzi ed ora ragazzi a fare in vista una bellissima emozza sincronizzata 300 vbac della season 1 capitolo 3 ecco il bundle orelia ragazzi i 5 oggetti 2.200 vbac invece che 3.200 nei due stili orelia e orelia oro brunito contiene anche il dorso decorativo rosol il piccone mazza frusto del tributo la copertura maledizione di sol e tributo la schermata di caricamento anche qua venduti separatamente il costo si alza a parte trovate anche la maledizione di sol copertura da 500 e il deltaplano ragazzi scheletron 1500 vbac vedete la skin maschile eccola qua oro 2000 vbac abbinata al dorso decorativo manto radioso a parte del set vendetta di media season 2 capitolo 2 passiamo a una bellissima schese è molto molto bella sogno 1200 vbac abbinata al dorso decorativo ala spezzata guardatela molto molto bella ed ecco la skin maschile luminos 1500 vbac abbinata al dorso decorativo luce lunare si passa a frammenti la copertura da 500 il piccone ascia astrale 1200 il rumore e arcana il deltaplano da 1200 ed ecco eco guardatela abbinata al dorso decorativo vero riflesso 1200 vbac dei due stili predefinito e inverso a parte del set do più eco season 2 capitolo 2 lo strumento di raccorta lame dell'inversione 500 vbac il deltaplano eco jack ragazzi 800 vbac e echi la copertura da 300 vbac ora si passa a esplode ragazzi 1500 per questa skin del set micha corta season 8 abbinata al dorso decorativo alto potenziale 1500 vbac ed ecco una alta skin molto bella criptico 1200 abbinata al dorso decorativo schiena spettrale guardatelo dei due stili predefinito e arancione 1200 ed ecco una serie di emoto ragazzi via di qui 500 vbac fatti una risata molto bella 500 vbac fuggile ombra ragazzi 200 vbac e alla fine della copertura primo tramonto 500 vbac ed eccoci da un po' di giorni il pacchetto incarica alla scala livelli ragazzi monarca 1200 vbac ragazzi contiene la skin gli incarichi il pacchetto incarichi e il dorso decorativo e la copertura che si devono sbloccare ragazzi ecco i due stili stile monarca ecco lo sbloccabile che è il dorato è disponibile gli incarichi sono disponibili fino al 19 marzo quindi fino alla fine della stile della season lo stile dorato si sblocca completamente di tutti ovviamente i 28 incarichi ed ecco il bundle coniglio bianco ragazzi il costo rimanente per questo io proseguo già un oggetto che sarebbe questo calcio di criniti quindi il costo rimanente per me per i due oggetti è 500 vbac e sono bullet time di leo e la schermata è la copertura codice binario 500 vbac sennò li prendete separatamente ma il costo si alza guardate bellissimo il bundle del chart ragazzi il costo per questi 6 oggetti è 2500 vbac invece che 4200 contiene due skin Nathan Drake ragazzi il personaggio principale dei due stili Nathan Drake e Nathan Drake nella serie Uncharted 4 fine di un lato questo è proprio bello questo ci assomigliamo molti nel set Uncharted season 1 capitolo 3 ed ecco lei Chlo Fraser ragazzi dei tre stili Chlo Fraser Chlo Fraser senza giacca e Chlo Fraser Uncharted l'eredità perduta ecco il dorso decorativo linea di Chloa i piccoli due piccoli ascia di Parashurama la spada di seconda mano e le emote al giorno del diario 2500 vbac altrimenti si prendono separatamente ma costo si alza a me piace molto di più Nathan Drake 1500 se non ne avete 2.500 vi consiglio di farne dare solo la skin perché le emote non è un granché quindi 1500 vbac ed ecco le skin delle M.B.E. 35 ve le faccio vedere in maniera veloce due set con la femminile 2000 vbac e con la maschile alti sempre 2000 vbac separatamente le skin vengono a 800 vbac ecco le altre tutta pittura queste vengono vendute l'una a 1500 vbac le maschile e le femminile io ho già secondo me la più bella eroe di metà campo ecco il dorso decorativo dribbling e modda 500 molto bella questa è molto bella ragazzi eccolo qua che palleggia il dorso decorativo il trofeo campionato dell'NBA 400 vbac i due bundle quello maschile del lato forte mi ne posseggo già un oggetto quindi a me costa 2000 e spara tutto puro quello femminile da 3500 vbac il bundle silsoni che a me non fa impazzire 8 oggetti a 2700 invece che 4500 e infine i vari pacchetti guardate di veloce del gendelamento di fortnite 2999 incarichi ranger e l'amor perduto 1599 robo kevin a 1199 futuro tecnologico a 12 euro e 05 ecco gli strumenti da infiltrazione 1200 vbac e infiltrazione cyber a 2200 vbac vi ricordo di nuovo per supportare gratuitamente il canale il codice creatore Mickey Crow non vi costa nulla è gratis però sciopate con moderazione sempre per superare il canale super sticker e super chat da 0,99 in su ragazzi vi ricordo di lasciare un like al video mi raccomando visitate il mio canale e se vi piace vi iscrivete ragazzi vi iscrivete al canale vi ricordo che presto sarò anche sulla piattaforma viola come Mickey Crow 2 ragazzi vi voglio un mondo di bene ciao da Corridor Renato mi dicono ciao hey guys